niente da fare ragazzi niente da fare siamo dei polli siamo dei polli dopo un primo tempo indecente ma al limite della dell'indecenza al limite almeno almeno la cremonese tira fuori un po di orgoglio ho visto un po di orgoglio di fatti abbiamo ribaltato il risultato con due bellissimi gol e come oggi come a bologna come a lecce come la spezia quando diamo in vantaggio non capiamo più un cazzo non capiamo più un cazzo sembra quasi che si caglino addosso ma io dico calma o non capivano più niente singo lasciato solo in aria quasi in aria piccola addirittura in aria è bastata una finta di di mezzo secondo mandato a quel paese valere al bar valeri e di sinistro la messa dentro ma cazzo calma ragioniamo calma sta di fatto che ripeto nel primo tempo lo salvo solo i primi 15 secondi dove benassi ha avuto quell'occasione da fuori dove ha tirato da fuori aria fuori ma per il resto una roba inguardabile nel primo tempo inguardabile inguardabile ci sono giocatori che non sono e lo ripetiamo lo ripeto per l'ennesima volta adatti alla serie a bianchetti ai vu i che non sono gli unici e non sono gli unici mei te mei te che doveva essere il perno del centro campo inguardabile ma io non mi incazzo neanche più di tanto perché ormai siamo siamo questi noi siamo questi la squadra è questa almeno nel secondo tempo ho visto un pelo di brio un pelo di voglia anche da parte dei giocatori perché nel primo tempo sembrava che non ci credessero nemmeno loro invece nel secondo tempo vabbè dai qualcosa ha fatto vedere ripeto due gran gol sono andati in vantaggio ma poi dopo basta il blackout totale come sempre e siamo fa dire ancora le stesse cose ultimissimi in classifica con zero vittorie non so più cosa dire non so più cosa dire dico scusatemi dico sempre le stesse cose diciamo sempre le stesse cose veramente veramente perché non lo so ragazzi ripeto una nata di merda una nata nata male una nata nata male dal giorno dopo la promozione dell'anno scorso dall'esonero di vecchia da lì è successo tutto patatrac mercato allenatore giocatori acquistati campionati proponibili perché anche oggi vabbè carne secchi dobbiamo dirlo è uno dei migliori in campo anzi se non il migliore in campo della cremonese soprattutto nel primo tempo ma anche nel secondo tempo ha fatto qualche intervento abbastanza importante il che è tutto a dire ripeto siamo questi siamo questi la salvezza è adesso quasi impossibile dobbiamo cercare di limitare i danni e di evitare i record record negattivi perché io vedo lo spettro delle zero vittorie in campionato sinceramente ragazzi non vedo come una squadra come la nostra possa portare a casa i tre punti perché una volta una volta che riesce ad andare in vantaggio prendi subito gol sempre sempre allora non puoi vincerlo ragazzi il record dell'ancona il record negativo dell'ancona ve lo ricordo al 2003 di 13 punti in un campionato a 20 squadre siamo a 9 ne mancano 4 dai dai che io non voglio fare quel record negativo verso la fiducia sfiduciato incazzato di tutto metteteci tutto quello che volete anche felix felix ha avuto un paio di occasioni per partire per servire valere in profondità cincischiato la qualità è questa ragazzi la qualità è questa dobbiamo mettercelo in mente nel mercato svincolati finisce tra quattro giorni ma non arriverà nessuno qui ve lo dico non arriverà nessuno altro che bla 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 giacchetta cerchiamo giocatori svincolati che facciamo il caso nostro tutti farebbero il caso nostro tutti farebbero il caso nostro per una squadra ultima in classifica con 9 punti 0 vittorie chi deve andare a prendere qualsiasi 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 chiunque svincolato vada bene per migliorare questa squadra dai non prendiamoci in giro niente prossima partita con la roma in casa aiuto aiuto mi dispiace molto che non ci saranno i tifosi da loro sia a cremona perché il calcio è bello per questo è bello con i stadi pieni tutti pieni con l'amicizia fra le tifoserie che questo sicuramente è una cosa che è un punto a sfavore diciamo per l'intera per l'immagine del calcio un grazie sentissimo ai 415 eroi grigiorossi che erano presenti sul sugli spalti dell'olimpico di torino che veramente di lunedì sera fare una trasferta come torino non è da tutti quindi grazie mille ragazzi niente non mi resta che dirvi alla prossima sperando in questa benedetta vittoria del cazzo che non arriverà che che se andiamo avanti così penso che non arriverà e io queste figure di merda voglio smettere di farle smettere di farle piuttosto piuttosto mi faccio un bel campionato di serie b ma salire in queste condizioni in serie a anche no mai più alla prossima ragazzi